Anche Catanzaro avrà il suo giardino della speranza che non potrebbe essere ospitato proprio in questo parco, un giardino che poi è anche il simbolo di una battaglia contro la legge comunitaria che porterebbe a serio rischio la biodiversità agroalimentare. Beh devo dire un'iniziativa molto bella voluta dal Presidente dell'AMI Adelemano con la quale ovviamente stiamo collaborando, una cornice ideale parlando di biodiversità, un giardino della speranza che possa in qualche modo intravedere, un appoggio anche e un sostegno a Vandana Scina che sta, devo dire, ostacolando questa legge comunitaria che prevederebbe la possibilità di brevettare i semi e quindi ovviamente di dare la possibilità soltanto alle multinazionali di utilizzarli. Questo significa un depoperamento di una risorsa importante, di una varietà che soprattutto in Calabria sarà presente e sarà illustrata giorno 17 presso il Musmi in questo convegno dove tanti saranno i relatori a partire dall'assessore Trematerra, la volontà ovviamente di creare questo giardino della speranza dove verranno piantumate queste specie in via di estinzione di semi di alberi fruttiferi ma soprattutto anche quell'idea di una cultura che deve tutelare tutto ciò che appartiene, che è libero mercato e che in qualche modo non può essere ostacolato da qualche legge che trarrebbe soltanto benefici per pochi e non per tutti. Ai giovani la possibilità attraverso l'Istituto Agrario che abbiamo voluto non soltanto in quanto di competenza avere al nostro fianco di poter comprendere che tornando alle radici ovviamente con gli strumenti del passato possono intravedere il loro futuro. Un'iniziativa accolta con molto entusiasmo dall'Istituto Agrario, un'iniziativa che metterà al centro proprio questo istituto e vedrà gli studenti essere proprio degli ambasciatori per un ritorno anche alla terra? Sì, l'Istituto Tecnico Agrario non appena contattato attraverso la mia persona e i miei collaboratori ha aderito con grande entusiasmo a questa iniziativa dell'associazione perché intanto è congeniale, assolutamente funzionale a quello che è lo spirito educativo di questo istituto, un istituto per vocazione che tocca per vocazione tematiche e problemi legati alla terra, all'agricoltura biologica, tutto ciò che riguarda lo star bene dell'uomo sul pianeta Terra. Quindi abbiamo accolto veramente con grande favore. I ragazzi hanno già iniziato a lavorare e faranno di questo Giardino della Speranza un motivo di orgoglio, non solo perché è all'interno dei loro istituti, quindi potranno sicuramente con la loro presenza fisica potranno vedere queste 12 piante ortofrutticole, autoctone che saranno a loro completo appannaggio, ma saranno orgogliosi anche per poter mostrare a tutti coloro i quali vorranno visitare questo Giardino della Speranza e far parte anche emotivamente a questo grande ritorno alla terra e a tutto ciò che ne consegue. Perché l'AMMI promuove questa iniziativa e qual è il senso di biodiversità, gibe salute, liberi semi, libero mercato? Sì, l'AMMI si occupa a livello nazionale del tema della biodiversità e la sezione di Catanzaro ha inteso declinarlo collocandolo appunto nel parco della biodiversità. Ce ne occupiamo perché si dice che siamo ciò che mangiamo e dunque mangiare bene tutelando la biodiversità significa sostanzialmente occuparsi della salute. Liberi semi in libero mercato perché a livello comunitario vi è una proposta e Vandana Sciva ha lanciato una battaglia contro questa proposta comunitaria di brevettazione dei semi che minacciano la biodiversità e dunque l'AMMI che si occupa sostanzialmente di salute, in questo caso nella accezione che è connessa al cibo.